Domenica 9 giugno a Montesano sulla Marcellana si correrà per il campionato nazionale della montagna, secondo memoria al Tony Cammarano e primo memoria a Luigi Spinelli. La gara ciclistica organizzata dall'AS di Marco Pantani partirà alle ore 9.30 dalla piazza Gaiardi di Montesano. Gli atleti saranno impegnati su un percorso ondulato di 87 km sull'intero territorio valdianese, passando per Tegiano, San Pietro di Tanagro, Sant'Arsenio, Polla, Atena Lucana e Sala Consilina, per poi ritornare a Montesano sulla Marcellana dove sarà situato il traguardo. Il campionato nazionale della montagna vedrà la premiazione dei primi 5 classificati e dei primi 3 di ogni categoria, mentre l'assegnazione del titolo sarà riservata solo ai tesserati US Acli. Quello di quest'anno è un percorso stupendo, dichiara il presidente dell'AS di Marco Pantani Maurizio Radesca, perché è una gara in linea che tocca tutti i comuni del Vallo di Diano.